A me comunque di solito... Più sono scarse e più mi beccano su... Tra l'altro giorno per esempio una volta mi ricordo Era scarsissimo Cioè ho ucciso solo a me Più sono scarse più fanno movimenti Mi sento fatto quello col draghetto dietro Che uno farebbe no? No, sono nella città di strutta A me sempre qua mi fa A me sempre qua mi fa no E' un problema? Ma che fermo eh Mantoli Super lancerazzi Dì già? Vediamo se lo trovo qua Nooo quanti vicini di merda No secondo me devo scappare vero? Secondo me si Sono nella città Va di sicuro l'andana Ok quindi Omo io ma tanto che ci vanno da ora Ma solito all'inizio vanno sempre nelle città Che c'è più Più cose da sal... Superstiti da fare Il solito eh Oh power key trovata! Godo! Tratta tu quella no? Ho trovato la power keys Non ho trovato un cazzo Ho fatto ODP pure! Vai! Dov'è boss? Oh ODP di travi sempre però Dov'è? Ma è già morto Ma hai già assorbito due cose I civili mi sa perché Non è morto nessuno Io sono ancora a livello zero Non ho trovato niente Adesso Con quanto non sapevo Diflugevo la persona No no dai 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 Brothers Brothers Ok Fatti beccare mi raccomando eh No 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 non sono morto È un giro Ma dico adesso Non vedo non me lo indica neanche Ora viene qua adesso Ma io ho capito Mi sa che quando tu lo vedi no? Il simbolo Vuol dire che qualcuno lo sta guardando Vedi? Adesso è comparso per esempio C'è qualcuno che C'è qualcuno che C'è qualcuno in faccia E sta combattendo quella Quando qualcuno l'ha vista Ti compare Stava combattendo Quella del drago Niente Oh Ma alcuno è morto eh Ma del tutto? Come del tutto? Ma io la non so dove era la chiave Dove ero io L'ho trovato Ci ho trovato dappertutto Ma forse era nell'acqua Ma la cosa non è proprio il massimo eh Ma quello è morto diretto però Come fai? Abbandonato Eh Ma che secondo me C'è il livello 2 però eh Dai che sto parlando a prendere una sfera del drago Sento pure Abbiamo trovato solo una o due sfera Ah e lì perchè c'è una sfera del drago per terra? Ah perchè vuol dire che ha distrutto la zona Ma ce ne sono due Ma ce ne sono due E pigliate E' morto quell'altra Oh un'altra Furpi non è tanto tanto furbo Dai magari questa qua la volta buona che mi trasformo finalmente di livello 4 Infatti non sei morto ancora Oh guarda Ma quello è un miracolo eh Questa che sta camperando il livello eh E' quello Ma questo è un miracolo e non quello è morto Ah no se non è via eh Sta venendo verso Radarcivili Ma tu dove sei tu? Oh io vado a salvare a quello provo eh vediamo Eh ma tu dove cam? Ma non ti vedo eh Ah ma tu sei qua Ah ma sei da dietro di là Ah ma sei da dietro di là Provo a salvare a quello vediamo se riesco Dov'è? Ma il super lanciarazzi cosa fare? Eh Ma c'era bisogno mi ha fatto venire fino a qua per salvare a questo cosa cosa? Vado in due secondi No la mia domanda è cosa fa il super lanciarazzi? Eeeh Eh c'ho tre colpi invece di uno Ah ok Quello d'oro dici? Si quello d'oro Si Mantuvani Devo mettere la chiave da quella parte dove c'è quello Sai che quello sta combattendo contro C'è uno aspetta Bruder Adesso muore quello eh Furghissi E qua eh Ah Tp Che fortuna Leandro Quello è morto Ma quello non è morto è riuscito a scappare E' ancora morto quello lì eh E' trovato la chiave? Dov'è? Si E' di fianco a me quella della E Prima dove si mette Giuse Io ho un altro dp ho trovato Guarda quanti ce ne sono Gli altri ne abbiamo tolto questa partita Sto mettendo Sto mettendo Ecco sei morto sei tu o no? Devo salire sopra No io sono qua Sto mettendo la chiave? Ma sto venendo ma non so dove Ma è sopra eh Io sono sotto Si Cos'è che dici? Se metto la chiave puoi smettere di metterla Mi car- Ti tiene quanto stavo facendo? Si Perché l'hanno fatto dopo questo L'inizio non era così Eh infatti mi ricordavo ma poi mi è venuto buio L'hanno modificato Stai distruggendo la zona eh? Ok Non 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 stai distruggendo la zona eh? Mi schermo Forse perché c'era il cadavere di quello Ma non era lì però comunque No non era lì Ma qua non riesco a salvarlo mi sa eh? No ma non salviamolo No dici Oh sta distruggendo il coso però Ma lui è livello 3 merda Oh io gli sparo un lanciarazio adesso qua Se no tu mi hai dato una spara del drago Non ti ho sparato un lanciarazio e sparagli Dov'è? Wow L'ho sparato è un colpo l'ho interrotto No mi ha visto Ma lo sono fregato Oh Si vabbè Ah no Dai ma come fanno beccarmi sempre Beccati queste Sono morto adesso te lo dico Sono morto Via di qua Mi sono riuscito a scappare Posso lanciarli un super lanciarazzi magari Adesso quello ti sfugga Forse gli ho fatto... Io gli ho sparato ma con lanciarazzi Non so se l'ha fatto cadere qualche sfera se ce l'ha eh Se gli spari con lanciarazzi lo colpisci Mi fai cadere le sfera se ce l'ha comunque Ma io non posso da spommarmi più eh Io gli ho finita la cosa Eh le ho sparato ma non lo pre... Cioè l'ho preso ma... Sa continuo a andare a rompere Eh queste gli altri non fanno un ca... Ma non sono... Sono a livello 2 comunque Non è che se no A livello 1 Ma non... non trovare o non trovo Ecco... Dobbiamo prendere le cose Dobbiamo prendere Eh ma spuntano sempre dalla sua parte Vedi... Verso di lui sempre così eh Non lo facciamo sfidare adesso Ah è morto Oh io provo Mi sa che ci uccide il valore però eh Tu devi andare a farla Mi devi muovere! C'è una sfera del drago sopra di me Divello 3 Mi stanno sparando è al posto E ora io tra un po' mi ricarico un'altra volta Mi manca poco Io gli ho caricato Non solo di livello 1 Ci andrei sulla morire Eh ma devi Dobbiamo fare qualcosa No allora fai la cosa qua andando La cosa la... La macchina andando a prendere le sparre del drago, aspetta e allora... io faccio una macchina ok, ho queste le sparre del drago ce le hai tutte, no? io ho quattro e che ce le hai altre? è vero che non abbiamo un po' da qualche parte ma non c'è il radar non lo vedo vedete, stanno qua in giro wow ma dove lo sto massacrando sta a morire va beh, mi trasformo in giro allora lo sto massacrando aspetta di questa vado l'ultimo coppo wow ti abbiamo ucciso pensavo che riuscivamo a ucciderle ah, ho avuto il coppo di grazia dai, ci avevo tutte le sparre dove ti ucciderlo ah beh, anche a me si uccide da questa roba quindi fatta apposta ma poi la cosa bella non esisteva cioè ha distrutto proprio le zone dove c'erano c'è quattro su quattro le ho trovate per terra ah ho il sentimento